È stata un'altra partita utile. Abbiamo, credo, evidenziato uno sforzo di far meglio le cose di cui avevamo parlato stamattina, rispetto alla partita di ieri, rispetto in generale alla nostra evoluzione e soprattutto in attacco ho visto un numero molto alto di assist. La palla si è mossa abbastanza bene, abbiamo giocato con buon altruismo e siamo riusciti soprattutto a tirare un numero di tiri da tre punti più alto, che è un po' un aspetto del gioco su quale dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, dobbiamo creare più tiri da tre punti. Oggi direi che in questo senso abbiamo fatto un passo avanti. Difensivamente ovviamente siamo ancora un po' su e giù, abbiamo momenti migliori, momenti peggiori. Chiaramente abbiamo anche trovato un giocatore in una serata di grazia incredibile, ma poi bisogna essere anche pronti. In queste serate i giocatori di talento le possono avere, quindi bisogna essere chiaramente, cosa che adesso non siamo, anche tatticamente pronti a fare qualcosa di diverso, ma ripeto adesso siamo ancora all'ABC, alle fondamenta, alle basi, quindi direi una partita molto utile, magari un po' più di sforzo fisico di quanto non fosse logico preventivare a questo punto della pre-season, però senz'altro di quelle che fanno maturare i giocatori individualmente e le squadre collettivamente. Quindi adesso ci fermiamo un momentino, incorporiamo, rincorporiamo, sperabilmente, toccando ferro un paio di giocatori di quelli che erano fuori e accoglieremo appunto Tashon Alexander per vedere se è immediatamente in grado di darci qualcosa e comunque per prepararlo per una parte diciamo un pochino più avanti della stagione.